Eccoci su News per te. La famosa coreografa e ballerina Veronica Peparini, di 52 anni, ha sconvolto tutti annunciando la sua gravidanza gemellare con il compagno 27enne Andreas Muller. Ma la felicità di questo annuncio è stata spezzata presto con una spiacevole notizia. Prima di continuare iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Andreas, il giovane papà ha annunciato un problema con la gravidanza sui social, che pare abbia costretto la coppia a fare controlli ogni 48 ore. Sembrerebbe che Veronica stia affrontando una situazione complicata, la terribile sindrome da trasfusione feto-fetale. Un problema che colpisce le gravidanze gemellari che dividono la stessa placenta. Ma cosa comporta? Il flusso sanguigno fuori controllo tra i due gemellini può portare a guai seri e ora la coppia è costretta a controlli medici regolari. I fan sono preoccupati e noi siamo in attesa di notizie fresche sulla salute di Veronica. Veronica, costretta a un riposo forzato, spera che le sue piccole gemelline crescano bene e raggiungano la fine della gravidanza senza intoppi. Ottimista, nonostante le sfide, confessa di sentire la mancanza del suo lavoro e delle attività quotidiane, ma è convinta che tutto sarà ancora più bello con le gemelline tra le braccia. Tutti aspettano notizie che possano dissipare le paure e confermare che tutto va per il meglio. Se anche voi volete inviare i vostri auguri a Veronica, fatelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Grazie. Grazie a tutti.